Ciao caro Marcello, è appena finita la partita e l'intervista del mister che dire, vendetta sportiva doveva essere, vendetta è stata finalmente per la seconda volta consecutiva il mister propone questo nuovo modulo in cui la Juventus nel primo tempo è stata davvero sontuosa ha letteralmente asfaltato il Milan che non ci ha capito nulla, ha giocato un calcio spettacolare, ha fatto due gol, poteva farne almeno altri 4 e chiudere il primo tempo 6 a 0 nel secondo tempo un calo fisiologico della squadra che ci sta perché è un modulo molto dispendioso con le punte che vanno e poi tornano in difesa per recuperare i palloni, quindi un calo fisiologico poi il Milan segna un gol a dir poco casuale perché fino ad allora non era mai neanche arrivata vicino all'area di rigore e da lì noi sbagliamo altri 3-4 gol nitidi e loro prendono coraggio, poi c'è stata un po' di stanchezza, qualche cambio che non è arrivato e forse la mancanza di Marchisio nel far girare palla per farli correre a vuoto farli un po' stancare ecco abbiamo vinto 2 a 1, forse il tabellino è bugiardo perché poteva finire 4-5 a 1 ma va bene così, preferisco tenermi gol per domenica contro il Sassuolo e l'altra domenica ancora contro la nostra rivale storica che è l'Inter ecco, se dobbiamo asfaltare qualcuno in termini di punteggi tennistici allora preferisco asfaltare i nero-azzurri senza ombra di dubbio un piccolissimo appunto ancora una volta ai telecronisti della Rai che francamente sembrano molto di parte e non ne vedo il motivo anche i vari cameraman o registi che fanno vedere il replay sul gol annullato a Chedira soltanto una mezza volta tra l'altro con una telecamera in diagonale e senza tracciare una linea sul campo ti dico la verità, a velocità normale mi sembrava regolare la posizione di Chedira sulla respinta di Donnarumma sul tiro di Guain però va bene, non attacchiamoci a niente anche perché se ci attacchiamo all'arbitro il Milan doveva finire anche in 9 perché Kuczka doveva essere buttato fuori già nel primo tempo ma di arbitri facciamo guardare gli altri perché se no non possono più attaccarsi neanche a quello e diventa tutto noioso lasciamo il bello del calcio a loro lasciamo le polemiche a loro noi godiamoci questa Juventus che inizia veramente a stupire per il gioco inizia veramente a far divertire tutti e speriamo di arrivare così fino a maggio perché mi voglio togliere delle grosse soddisfazioni ciao Marcello e fino alla fine Forza Juventus! Grazie a tutti! Forza Juventus! Grazie a tutti.